buongiorno non giudicate per non essere giudicati l'invito perentorio di gesù all'inizio del capitolo 7 di matteo i versetti dall 1 al 5 manifesta ancora una volta la premura del signore maestro per il nostro modo di essere in relazione con gli altri in questo caso soprattutto con i fratelli con coloro che ci sono più vicini quali possono anche sbagliare possono essere nell'errore possono oppure vivere nel peccato ma quanto più interessa a gesù è che il rapporto con essi con chiunque sia sempre segnato dalla verità e dalla misericordia e l'ipocrisia ciò che fa infuriare il signore e con gli ipocriti cioè con coloro che fanno del loro intervenire del loro parlare del loro mostrare all'altro una maniera per mettersi in mostro per sentirsi migliori ciò che a gesù non piace per nulla dunque prima di tutto dietro l'invito del maestro vi è la profonda e radicale attenzione alla cura del proprio fratello gesù non dice di non dire niente a quanti ci stanno accanto ma dice di farlo con l'occhio purificato e ancora di più con un cuore libero da quanto può essere un impedimento o portare a travisare il nostro sguardo sul fratello questo desiderio di prenderci cura dell'altro nella verità si traduce poi in scelte atteggiamenti comportamenti non sempre facili a volte costosi e pur tuttavia segnati da un valore di fondo quello appunto di voler costruire insieme le relazioni del regno le relazioni che manifestano la cura più profonda originaria che è il signore stesso ad avere verso di noi se c'è qualcuno infatti che non giudica è dio il quale avrebbe tutti i motivi per mettere i puntini sulle i alle sue creature a noi che abbiamo abusato e usiamo male a volte della nostra libertà ma la misura con cui egli misura la nostra stessa esistenza è quella traboccante della misericordia dell'amore allo stesso modo con cui siamo guardati pensati amati custoditi dal signore allora se ce ne accorgiamo quotidianamente possiamo diventare strumenti per i nostri fratelli e le nostre sorelle che necessitano come noi di fare esperienza di essere voluti bene per quello che sono ciò diventerà motore per poter anche crescere e cambiare laddove sia necessario una trasformazione del nostro modo di porci in rapporto con gli altri buona giornata nella relazione vera fraterna misericordiosa